È iniziata con il ricordo dei nuovi martiri aquilani, la giornata dedicata alle commemorazioni e alle celebrazioni per il 25 avrileno del capoluogo. Nove ragazzi tra i 18 e i 20 anni che all'indomani dell'armistizio, 8 settembre del 43, si unirono ai partigiani per respingere le truppe nazifasciste. Si chiamavano Bruno D'Inzillo, Bernardino Di Mario, Fernando Della Torre, Carmine Mancini, Giorgio Scimia, Francesco Colaiuda, Anteo Alleva, Sante Marchetti e Pio Bartolini. Per sfuggire ai rastrellamenti si erano rifugiati sulle montagne nei pressi di Colle e Brincioni. Furono catturati dal contingente tedesco dopo una delazione e condotti nella caserma Pasquali dove, dopo essere stati costretti a scavarsi la fossa, furono fucilati. I loro corpi furono rinvenuti solo dopo la liberazione della città, avvenuta il 13 giugno del 1944 e successivamente ricomposti all'interno della scuola elementare De Amicis, dove ricevettero l'omaggio della cittadinanza. Bruno D'Inzillo era figlio di un colonnello dell'esercito, aveva da poco terminato gli studi liceali e desiderava iscriversi alla facoltà di medicina. Aveva scritto una raccolta di versi dal titolo Retoriche Cosmiche. Fernando Della Torre era originario di Sulmona e apparteneva ad una famiglia di origini ebraiche. Diplomato all'Istituto Tecnico Industriale, era rimasto orfano dei genitori e aveva trovato un impiego. Giorgio Scimmia era l'ultimo anno dell'Istituto Magistrale e sognava di diventare avviatore. Carmine Mancini era il più caro amico di Bruno D'Inzillo e, come lui, scriveva poesie e si accingeva a iscriversi alla facoltà di medicina. Berardino Di Mario frequentava le industriali e fu l'ultimo a morire poiché non venne ucciso subito dalla scarica dei fucili. Sogni, speranze ed ambizioni della meglio gioventù degli anni della guerra che oggi, 73 anni dopo, si commemora per tramandare alle giovani generazioni il sacrificio di chi ha messo in gioco la vita per quella libertà che oggi si dà troppo spesso per scontata.